Signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine che ormai ben conoscete da tanto tempo, della mia libreria. Allora, 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 cari signori, qui hanno veramente aperto le gabbie. Sì, 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 perché qua ne succedono di tutti i colori. La gente, le persone, aprono la bocca, gli danno fiato facendo volare i ditini a caso sulla tastiera, esponendosi al pubblico ludibrio e parlando di cose delle quali oggettivamente non hanno la benché minima idea. Allora, io qualche tempo fa avevo pubblicato un video inerente al G55 Centauro, al Fiat G55 Centauro. Quello che, a mio modesto e personale parere, era probabilmente il miglior caccia della cosiddetta Serie 5. Vi ricordate? Machia MC205, Rezzane 2005 e Fiat G55. Solo che cosa è successo? È successo che giusto oggi ho ricevuto un commento che vi provvedo a leggere. Sentite un po'. Allora, mi scrive nove ore fa il signor Marco Desiderio Brullo. Secondo lui, il G55 è il miglior aereo della Seconda Guerra Mondiale, a detta dei piloti inglesi che lo provarono dopo la guerra. Paragonarlo al FW109... Vabbè, FW109... Vabbè... Il miglior di lavoro è come paragonare una Fiat 126 a una Lancia Stratos e dire che è meglio competere con la prima perché si produce in meno temo. No, semplicemente ridicolo. La realtà è che i tedeschi sono sempre stati invidiosi delle capacità e della creatività italiane e ogni volta che hanno potuto ci hanno saccheggiato, come hanno fatto con l'euro grazie ai servi del PD. Va bene, anche oggi molti componenti altamente tecnologici di aerei da caccia necessitano di cure praticamente artigianali e moltissime ore di lavoro. Questo non significa che se ne possa fare a meno. Considerare la valutazione tedesca del G55 al di fuori del contesto storico in cui venne fatta è un grande errore. Ai tedeschi non serviva e non volevano un'Italia che si salvasse dalla disfatta. Loro contavano di arrivare per primi all'arma che avrebbe evitato la sconfitta. La storiella della sconfitta è inevitabile, lasciamola raccontare ai figli dei partigiani ficcati nel circuito editoriale dell'Italietta morente di oggi. L'arma a cui arrivarono gli alleati solo grazie al tradimento, e sottolineo tradimento, di fermi. A distanza di oltre 70 anni, chi vuole raccontare questa parte della storia ha il dovere di documentarsi sui fatti, anche se il tutto è reso quasi impossibile perché toglie forza a tutta una serie di panzane che sono state raccontate per giustificare lo schifo in cui oggi ci troviamo. Hanno aperto le gabbie! Sì, hanno aperto le gabbie a questo punto, scusate se ve lo dico, le gabbie. Cioè quel sant'uomo di Basaglia, se si fosse immaginato che la sua legge avrebbe tolto la museruola a certi elementi, avrebbe veramente, avrebbe veramente preso la sua legge e l'avrebbe bruciata nel camino. Allora, io non dovrei arrabbiarmi, però, cioè, devo essere sincero, è più forte di me e in un certo senso ci prendo anche gusto. Allora, io mi sono permesso di sottoporre l'intemerata del signor Marco Desiderio Brullo ad uno dei miei contatti Facebook. Allora, io ho l'onore e il piacere di avere tra i miei contatti Facebook il professor Gregory Aleggi che, tra le altre cose, giusto per far sapere il livello del personaggio, è il curatore di questa poderosa opera qua, ok? Guardate un po' qui, eccolo, ve lo faccio vedere, cioè, giusto per vedere. Allora, dove è finito, scusate. Eccolo qua, questo, guardate un attimo qui. Si legge chi è il curatore dell'opera, signori? Il professor Gregory Aleggi, al quale ho chiesto un consulto a proposito delle affermazioni fatte dal signor Brullo. Con estrema gentilezza il professore Aleggi mi ha scritto e praticamente, anche perché c'era una cosa, il professore Aleggi è autore di alcune pubblicazioni proprio a proposito della storia del G55. Quindi, oserei dire che è persona estremamente competente in materia. Praticamente, il professore Aleggi mi ha detto, cioè, io gli ho chiesto, ho detto, visto che io non sono un pilota, sono solo un'autodidata, mi sono permesso di chiedere il parere di un esperto assolutamente competente in materia, ok? Il professore Aleggi mi ha detto che tutta questa superiorità del Fiat G55, lui personalmente non la vede. Ne hanno, come dire, nel 1942, più o meno, era all'altezza, più o meno, dei caccia alleati. Diciamo che poteva essere l'equivalente dei primi, dei primissimi Mustang Merlin, dei P-47 e degli Spitfire Mark 9, più o meno, circa, a spanne, diciamo, perché si tratta più o meno di aerei equivalenti, diciamo così. E prima, diciamo, nell'estate del 1943, ne consegnano 15 o 18, circa, prima dell'armistizio. Stop! Allora, in base a cosa il G55 sarebbe stato il miglior caccia della guerra? Cioè, 15, diciamo, massimo 18 esemplari consegnati prima dell'armistizio, che sarebbero stati i migliori caccia della guerra. Cioè, io, nel video relativo al G55, parlavo soprattutto di alcune cose. I limiti produttivi della nostra industria, i limiti enormi della Fiat, ok? E soprattutto i costi spaventosi, spaventosamente alti e poco razionali del G55, che, come ho già detto, con un solo G55, si costruivano dai 3 ai 5 Mesh-Smith 109, e non F-Fockwool, mamma mia, cioè, scusate. Allora, i tedeschi, i tedeschi, ci suggerirono, addirittura, mi dice il professore Leggi, che i tedeschi suggerirono alla Fiat e alla regia aeronautica di passare direttamente al G56, che avrebbe dovuto montare il Daimler-Benz 603 e che avrebbe avuto ben altre chance grazie alla superiorità di questo propulsore aeronautico. Tra l'altro, il professore Leggi mi dice anche una cosa estremamente importante. Come dire, ha visto, cioè, essendo uno studioso di storia aeronautica, ripeto, è il curatore di quest'opera, insomma, non è certo l'ultimo arrivato, non è certo uno scalzacani come me il professore Leggi. Dicevo, ha letto le valutazioni tedesche del G55, ma gli inglesi non hanno mai provato il Centauro. Il professore Leggi, che studia da tutta la vita la storia dell'aviazione e tra l'altro insegna anche storia dell'aviazione all'Accademia dell'Aeronautica Militare di Caserta, mi ha detto che non esistono, o che perlomeno lui non è a conoscenza, di valutazioni inglesi del Fiat G55. Ad essere generosi, diciamo, ad essere molto generosi, il personaggio in questione che mi apostrofa con queste uscite fa confusione quasi sicuramente con le prove del Macchi MC 205 Veltro fatte sì dagli inglesi nella persona del capitano Eric Brown, soprannominato Winkle, che è considerato uno dei più grandi piloti militari di tutti i tempi, un uomo che ha, si può dire, ha volato su qualsiasi cosa dotata di ali ed eliche durante la Seconda Guerra Mondiale. Eric Brown, nelle sue memorie, parlava del Macchi MC 205 come di un aereo superlativo, di una gioia assoluta per il pilota. Concediamo la buona fede al signor Marco Desiderio Brullo che può avere fatto confusione, ma dovrebbe controllare meglio quello che dice, considerato che fa affermazioni così tanto categoriche e così pesanti. Cioè dire, paragonare il G55 nelle ore di lavoro, cioè paragonare il G55 all'FV 109, che poi dovrebbe essere il Mesh Smith 109, ma lasciamo perdere, sono sottigliezze, dicevo, paragonare il G55 al Focke-Wulf 109 nelle ore di lavoro è come paragonare una Fiat 126 a una Lancia Stratos e dire che è meglio competere con la prima perché si produce in meno temo. Temo. Semplicemente ridicolo. Allora, semplicemente ridicolo è sto paragone del cazzo! Non devo dire le parolacce? Oddio, ho detto una parolacce, ho detto cazzo, sì, lo dico, questo è un paragone del cazzo! Allora, perché? Perché semplicemente una cosa. Innanzitutto, uno, il Mesh Smith 109 non era certo paragonabile a una Fiat 126, tutt'altro, era un aereo che aveva sì dei difetti, lo sapete bene, il carrello, la scarsa visibilità dell'abitacolo, la cellula, diciamo, estremamente ridotta che impediva di montare armamenti sufficientemente pesanti per affrontare le formazioni di bombardieri americani, eccetera, eccetera, eccetera. Ma, cioè, scusate, 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 scusate. Paragonare il 109, il Mesh Smith 109, al Fiat G55, cioè paragonare il 109 a una Fiat 126, e il G55 a una Lancia Stratos, cioè è una stronzata enorme. Cioè, ricordiamoci una cosa, cioè ricordiamoci una cosa, quando si parla di produzione industriale, quando si parla di produzione industriale, occorre sempre ricordare una cosa, che le guerre, cioè, allora, se uno deve errare un campo, ok, che cosa usa? Il trattore o la macchina di Formula 1? Ok? Con la macchina di Formula 1 tu ci puoi vincere una corsa, tu ci puoi, diciamo, divertirti in pista, ok? Ma non ci vai certo a lavorare, non ci vai certo a combattere con quello che costa, ok? Il G55, con la sua struttura, ripeto, complicata e pesante, costava, insomma, un G55, costava dai 3 ai 5 Meshesmith 109, e almeno quanto 3 Focke-Wulf 190. E i tedeschi, i tedeschi, quando, ripeto, ci sono le, come dire, dichiarazioni degli ingegneri tedeschi, che dissero semplicemente è vero, può essere migliore del 109, può essere migliore, può essere alla pari del 190, ma, ma, bisognerebbe montargli il Daimler-Benz 603 e ricavarne quindi il G56, che sarebbe stato un aereo realmente alla pari del Mustang, ok, e trasferirne la produzione in Germania. Ma, ovviamente, la Fiat puntò i piedi e riuscì ad evitare lo spostamento degli impianti in Germania. Anche perché, ripeto, 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 la produzione industriale, cioè, l'idea di produzione industriale, va bene? Il signore, ripeto, tira, ha sproposito fuori la storia delle componenti altamente tecnologiche degli aerei da caccia che necessitano di cure praticamente artigianali e di moltissime ore di lavoro. Ma, fare un paragone così, cioè, fare un paragone così, cioè, diciamo, paragonare un F, questo è veramente paragonare un F-35, cioè, paragonare l'F-35 al G55 e veramente paragonare una Formula 1 col 126 in questo caso. Perché si parla di cose completamente, totalmente e assolutamente diverse, con tutt'altre prestazioni, con tutt'altra elettronica, con tutt'altri sistemi di guida, di pilotaggio, di puntamento, di armamento, eccetera, 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 eccetera. Non si può andare a paragonare l'attuale produzione aeronautica con la produzione aeronautica della Seconda Guerra Mondiale, che appartiene, cioè, è veramente come paragonare, è veramente come paragonare un, non so, un Kalashnikov con l'arco e le frecce. Insomma, cioè, la pochezza delle argomentazioni del del signor Marco Desiderio Brullo sono evidenti. Cioè, allora, un conto è criticare le opinioni che ho espresso, cioè, criticare, criticare le opinioni che esprimo, ma le mie opinioni sono espresse con la lettura di alcune tonnellate di articoli, riviste, dispense e libri a proposito dell'aviazione della Seconda Guerra Mondiale, che è una delle mie grandi passioni. Io sono soltanto un cazzo di appassionato autodidatta che si diverte a parlare a parlare di cose grandi, grosse, rumorose con l'elica che fanno boom e che fanno ta 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 ok? Perché? Perché sono metallaro, perché mi piacciono insomma, vabbè, lasciamo perdere, sono cose infantili, lo ammè. Però, insomma, avere un minimo, un minimo di cognizione di causa di quello che si dice, cioè, rendiamoci conto, rendiamoci conto, e poi, come dire, anche la storia che tira fuori questo signore, cioè, ripeto, loro, i tedeschi, contavano di arrivare per primi all'arma che avrebbe evitato la sconfitta, la storiella della sconfitta inevitabile, lasciamola raccontare ai figli dei partigiani ficcati nel circuito editoriale dell'Italietta morente di oggi. l'arma a cui arrivarono gli alleati solo grazie al tradimento di fermi. La domanda che io faccio al signor Massimo Desiderio Brullo è questa. Le leggi razziali che costrinsero fermi all'immigrazione per salvare sua moglie e i suoi figli perché la moglie di fermi ricordiamoci che era ebrea, ok? Le leggi razziali, le leggi razziali, in base al discorso contorto e decisamente dalle parti di me si dice inturcinato che fa il signor Marco Desiderio Brullo, cioè, sembra che nella testa del signor Marco Desiderio Brullo le leggi razziali a Mussolini gliele abbia imposto il PD di Renzi e la Merkel. Cioè, insomma, il signor Marco Desiderio Brullo si dimentica volutamente, penso, del fatto che l'arma atomica americana fu sviluppata quasi tutta da gente che i regimi totalitari fascista e nazista europeo avevano brutalmente cacciato in nome della loro purezza razziale del cazzo. Devo proprio farvi i nomi di coloro che progettarono la bomba atomica americana? Fermi a parte, la maggior parte degli scienziati che misero mano alla bomba atomica americana erano scappati dalla Germania nazista e dall'Italia fascista perché? Perché perseguitati per motivi razziali quindi la ricerca atomica italiana fu ammazzata in culla non solo dalla fuga di Fermi e dallo smembramento del gruppo dei ragazzi di via Panisperna ma anche lo sapete da chi? Da quella testa di minchia di Badoglio Badoglio che quando Fermi andò da lui ricordiamoci Badoglio era presidente del CNR del Comitato Nazionale delle Ricerche Fermi andò da lui e chiese se non ricordo male 500.000 lire per la fabbricazione di un ciclotrone per la ricerca atomica ne ho parlato anche in un altro video e ho ricordato di come Badoglio nella sua veste di presidente del CNR dopo Marconi disse a Fermi io sta roba qua non so che cosa è più di 150.000 lire non vi do Fermi prese moglie e figli andò a ritirare il Nobel ed emigrò in America dove diventò praticamente il capo del progetto Manhattan e la colpa è la colpa di questo di chi è il tradimento di Fermi è stata l'Italia caro signor Brullo a tradire il professor Fermi Enrico Fermi eh sì caro mio perché se il duce non avesse fatto le leggi razziali Fermi se ne sarebbe rimasto in Italia se Fermi avesse avuto i fondi per il ciclotrone avrebbe come dire avrebbe completato le sue ricerche le ricerche che poi avrebbe proseguito in America ma no Fermi è un traditore Fermi traditore Fermi traditore Fermi traditore cioè rendiamoci conto uno dei più grandi scienziati della storia costretto a fuggire dal suo paese per la stronzata immonda per la per la criminale storia delle leggi razziali bollato come traditore doveva stare qui a farsi vedere la moglie cioè doveva stare qua in Italia a farsi vedere la moglie spedita in un lager insomma ma di che cazzo stiamo parlando il tradimento di Fermi qua se c'è un tradimento quello è stato il tradimento dell'Italia come sistema come paese come nazione come regime nei confronti di una delle sue più grandi menti il professor Fermi costretto a fuggire in America per colpa delle leggi razziali e di chi è colpa questa qui del PD è colpa della Merkel o è colpa di Mussolini che era che non vedeva l'ora di copiare le idee del suo amichetto caporale per farsi bello con lui legandosi sempre più mani e piedi al carro della Germania nazista e poi questa storia i tedeschi sono invidiosi della creatività italiana cioè ma di che cosa dovevano essere invidiosi i tedeschi del G50 del C200 ricordo al signor al signor Brullo ricordo che il motore del Fiat G55 era tedesco invidiosi erano invidiosi i tedeschi erano invidiosi i tedeschi invidiavano il genio la creatività italiana allora io cito spesso un episodio Adriano Visconti il più grande pilota dell'aeronautica nazionale repubblicana ok che scrisse testualmente il Machi è una gioia per volare il G55 è un grande aereo ma se devo fare la guerra io devo farla con i Messerschmitt e lo scrisse Adriano Visconti perché perché i nostri aerei per quanto belli per quanto eleganti per quanto fantastici eccetera 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 erano poco più che degli splendidi giocattoloni per piloti non erano dei veri e propri aerei da guerra va bene la serie 5 aveva armi in grado finalmente di picchiare duro ma la storia dell'invidia ripeto la storia dell'invidia tedesca per la genialità italiana non sta in piedi allora visto che i tedeschi erano invidiosi della nostra genialità erano invidiosi della creatività italiana perché ci hanno fornito la produzione su licenza dei motori Daimler-Benz e ci hanno fornito i cannoni da 20 mm Mauser con cui finalmente armare i nostri poveri caccia questo il signore il signor Brullo non ce lo spiega cioè non si capisce cioè Marco Desiderio Brullo questa cosa qua non ce la spiega cioè perché se i tedeschi invidiavano la nostra creatività ci hanno fornito ci hanno fornito i motori la licenza dei motori i cannoni e la licenza per costruire i cannoni perché perché cioè come dire veramente veramente scusate se ve lo dico veramente cioè io non ho parole io ho solo parolacce veramente perché giusto questo cioè allora io io posso capire la buona fede ma questa non è buona fede questo è pure semplice cieco fanatismo complotto ritardato cioè mancano soltanto veramente gli illuminati cioè la storia del PD la storia dell'Europa che c'era allora signor Brullo apra gli occhi porco due scusi se glielo dico l'Italia non si è rovinata per colpa del PD l'Italia non si è rovinata per colpa dell'Europa dei tedeschi l'Italia si è rovinata con le mani sue provincialismo arretratezza mentale arretratezza del sistema industriale l'incapacità degli industriali italiani di fare sistema non me la sono certo inventata io la arretratezza del sistema Italia non me la sono inventata io e la arretratezza del sistema Italia non è colpa dell'Europa la arretratezza del sistema Italia è colpa degli italiani stessi degli imprenditori che non sono mai stati capaci di guardare oltre di guardare oltre il risparmio della mano d'opera ok degli imprenditori che non hanno mai investito nel sistema paese che hanno sempre solo pensato a che cosa a cocaina puttane Mercedes e a tagliare le paga agli operai ok allo Stato è colpa anche dello Stato la colpa della arretratezza del sistema italiano non è colpa dei tedeschi non è colpa come fa a sottintendere lei del PD no 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 la colpa la colpa è degli italiani stessi che sono troppo furbi per essere intelligenti è un male antico dell'italiano medio caro signor brullo tutto qua quindi prima di fare certe opinioni prima di farmi dare in escandescenze e ci è riuscito io avevo promesso al professore Leggi di cercare di rimanere calmo ma non ce l'ho fatta perché perché io quando leggo puttanate e queste sono puttanate porca miseria io non posso far meglio di incazzarmi cioè scusate una cosa io da semplice appassionato cioè io da ragazzino me comprai sti libri cioè la guida pratica agli aeroplani di tutto il mondo di Angelucci e Matricardi cioè spesi una fortuna spesi le mie paghette di un anno per comperarmi l'opera completa a 12 anni cioè per tutta la vita ho comperato libri d'aviazione per tutta sono un affezionatissimo lettore di aerei nella storia per il mio per il mio compleanno mi regalarono questo gli amici che mi conoscono bene per farmi felice quando compio gli anni mi regalano fior di libri sull'aviazione e e leggere queste 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 boiate senza senso perché sono boiate senza senso mi manda letteralmente in bestia va bene signori scusate ripeto non dovrei farlo non dovrei incazzarmi non dovrei veramente dire cose così ma quando ci sono le boiate grosse io non posso veramente fare a meno di prendere sanguinosamente in giro certa gente che se lo merita se lo va a cercare c'è considerazioni fondate in aria c'è 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 dio mio c'è veramente quando io ho fatto leggere questa cosa al professore a leggi quel 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 buon uomo è rimasto molto interdetto diplomaticamente c'è alcuni esperti che ho contattato facendogli vedere questo messaggio del signor del signor brullo si sono messi c'è ma questo qui non c'è c'è questo che cosa dice non sa che cosa dice non ha idea di quello che dice la classica la classica dimostrazione che Umberto Eco aveva ragione internet ha dato voce a legioni di imbacilli che fanno finta cioè io voglio sapere dove cazzo sta scritta sta cosa che i tedeschi erano invidiosi del genio italiano allora la domanda è questa nel dopoguerra si sa bene che ci fu un'autentica razzia di ingegneri progettisti e scienziati tedeschi da parte di russi inglesi americani francesi che presero le migliori menti della germania nazista e se le portarono in casa l'esempio più famoso di tutti Werner von Braun in America un altro esempio famoso Alexander Lippisch sempre in America ok sono decine i progettisti gli scienziati e i tecnici tedeschi che o in Russia o in Francia o in Inghilterra o in America hanno proseguito le loro carriere fornendo il loro genio ai loro ex nemici ok la domanda che faccio visto che come dire i tedeschi erano tanto invidiosi e che i nostri tecnici erano così superiori secondo l'opinione del signor Brullo quanti dei nostri valentissimi tecnici sono stati portati o sono andati a lavorare in America in Inghilterra in Francia o in Russia ve lo dico io nessuno nessuno dei nostri ingegneri aeronautici è stato portato via dagli americani dagli alleati vincitori sia sovietici che occidentali per andare a lavorare nelle loro industrie perché perché la nostra industria aeronautica era spaventosamente e mostruosamente arretrata rispetto all'evoluzione dell'aviazione l'unico l'unico che avesse un'idea di come funzionavano le moderne strutture in lega leggera con rivestimento lavorante era l'ingegner Longhi della Reggiane ma lo sapete perché sapeva quelle cose l'ingegner Longhi della Reggiane perché aveva lavorato per anni in America e gli americani non avevano certo bisogno di un tecnico che per quanto bravo e per quanto valente aveva imparato tutto da loro eh signor Brullo ma lei ci pensa a queste cose o si è limitato semplicemente ad aprire bocca e a prorompere in questa marea di boiate insomma insomma signori signori scusate se ve lo dico ho detto non lamentatevi se mi incazzo non lamentatevi se dico parolacce non lamentatevi se do in escandescenze ma ritengo che sia un mio diritto cioè va bene io non sono un accademico non sono un professore non sono un docente di storia dell'aeronautica come il professore a leggi sono semplicemente un appassionato modestamente mi ritengo un grande appassionato di storia della seconda guerra mondiale cioè considerato tutto quello che cazzo ho speso in riviste e libri nel corso della mia vita e poi soprattutto scusate una cosa il Fiat G55 allora qui c'è gente che all'aviazione questa è la monografia di aerei nella storia del luglio 2004 dedicata proprio al Fiat G55 Centavolo ok? delle affermazioni fatte dal signor Brullo a proposito del G55 non se ne trova traccia è una delle opere più accurate sul G55 cioè per quanto che fosse bello per quanto che fosse moderno per quanto che fosse un buonissimo aereo il G55 non era assolutamente in grado di essere prodotto nelle quantità necessarie allo allo sforzo bellico italiano cioè del G55 ne furono prodotti sì e no 150 ok? prima dell'armistizio ne furono prima dell'armistizio ne furono ne furono prodotti prima dell'armistizio ne furono prodotti non più di 20 cioè scusate la famosa storia ricordatevi vi ricordate questo disegno? eh? la struttura alare G55 macchie MC205 al centro era già nel 2005 in fondo ok? 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 cioè ok basta leggersi qualcosa invece no invece no invece no qua porca puttana si prende ci si apre bocca perché mio cugino mi ha detto che perché nel forum mi hanno detto che perché posso dire semplicemente una cosa? posso dire semplicemente una cosa? dall'alto di un cazzo della mia ignoranza io quando leggo certe cose quando mi si fanno certe uscite io non posso altro che far dire una cosa fate un po' come cazzo vi pare perché tanto non c'è nient'altro da dire tutto qua quindi va bene signori scusate ripeto scusatemi l'intemerata nota bene una cosa io non è che mi incazzo io sono proprio fatto così vi dico la verità sono proprio fatto così anche nella vita di tutti i giorni sono fatto così non riesco a trattenermi dal dire quello che va detto signori ripeto una simile marea di boiate pronunciate in così poche righe cioè non può a uno come me cioè a uno a uno che ha tracce di sangue nel napalm che mi circola nelle vene non posso non fare certe cose siamo sinceri comunque io mi diverto come un pazzo a prenderli in giro ma lasciamo stare vabbè signori ripeto scusate i toni scusate le facce scusate le espressioni psicopatiche scusate le parolazze ancora ma quando ci vuole ci vuole quindi io vi ringrazio tantissima per l'attenzione e come sempre tanto per cambiare arrivederci al mio prossimo video ciao